E allora era importante oggi qui parlare solo e soltanto di idee, la maggior parte delle cose che ho mostrato non stanno in rete, stanno sul territorio, stanno dove i viaggiatori viaggiano e sono magari storie meravigliose raccontate in maniera molto semplice, abbiamo visto una campagna indiana fatta solo con le ombre cinesi, quindi con pochissimi investimenti e moltissima voglia di raccontare una destinazione in maniera creativa, la creatività non è dentro un algoritmo, l'algoritmo ci serve a generare la rilevanza, però la rilevanza si genera attraverso le idee, attraverso il racconto di storie straordinarie. La tecnologia è solo uno strumento, noi stiamo un po' subendo l'euforia, l'euforia del digitale, l'euforia dell'internet, combattiamo ogni giorno con TripAdvisor, con le recensioni online e non ci rendiamo conto che stiamo perdendo di vista il prodotto, che stiamo perdendo di vista le persone, quindi dobbiamo assolutamente ricucire questo strappo in maniera urgente. La rete è un habitat assolutamente contemporaneo, non possiamo più pensare che sia qualcosa che sta dentro i nostri computer, è il mondo che abitiamo e questo mondo ha come sempre bisogno di creatività.